La Cappella Brancacci come non si era mai vista. I ponteggi consentono ora a tutti di ammirare da vicino gli affreschi capolavoro di Masaccio e Masolino, che cominciarono l'opera nel 1424, opera che fu completata 60 anni dopo da Filippo Lippi, figlio di Fra Filippo, uno dei primi allievi del Masaccio. Celeberrimi tra gli altri le figure di Adamo e Deva, raffigurati prima felici nel paradiso terrestre e poi disperati dopo la cacciata. O la scena dell'obolo all'esattore con la frase di Gesù divenuta proverbiale, date a Cesare quello che è di Cesare e la moneta che viene recuperata dalla bocca del pesce. Anche il sindaco Dario Nardella ha fatto visita al chiostro del museo situato in Piazza del Carmine ed è rimasto estasiato di fronte a un capolavoro che, dopo l'incendio avvenuto nel Settecento, è stato riportato a brillare in seguito a un lungo e delicato restauro iniziato addirittura nel 1984. Il sito sarà visitabile in contemporanea al proseguimento del recupero. Nardella auspica che questo sia un ulteriore tassello in più per la ripresa a Firenze del turismo, un turismo spinto dalla cultura a rappresentare un'inversione di tendenza dei giorni della pandemia fino ad oggi. Grazie a questo progetto credo che Firenze si presenti come la prima città al mondo che lancia un modello completamente nuovo di cantiere per le opere d'arte. Il cantiere non è più una privazione per lungo tempo dell'opera d'arte dal godimento dei visitatori, ma diventa l'occasione per tenere insieme sia la conservazione che la fruizione. Anzi, lo spettatore può vivere un'esperienza completamente nuova e diversa grazie a questo cantiere aperto, un modello che, sono sicuro, si estenderà velocemente in tutte le città d'arte del mondo. Quello che grazie al CNR ora andremo a fare, grazie soprattutto al Comune e a Firenze a Florence, è di ripetere questa grande impostazione di carattere scientifico. La soprintendenza ha impostato questa campagna di indagini con l'aiuto e la disponibilità del CNR e l'opificio curerà la parte invece di intervento sulla base dei risultati di queste indagini e faremo un progetto condiviso tra tutti i nostri enti che partecipano a questo progetto per consentire, come sempre, all'opera di proseguire la propria vita nel tempo.